Un saluto da Alex Guarini di Trebimeteo.com Fine settimana con bel tempo prevalente su buona parte d'Italia, finalmente una buona notizia con solo un po' di variabilità nella giornata di sabato sulle estreme regioni meridionali ma poi guardate domenica come l'alta pressione si impadronisce di tutto quanto lo stivale e delle isole maggiori garantendo cieli in gran parte sereni o poco nuvolosi vi segnalo ancora una residua tramontana a tratti sostenuta all'estremo sud con temperature in questo caso ancora decisamente fresche e infatti vediamo nell'immagine successiva il dettaglio termico per tutta l'Italia con le estreme regioni meridionali, in particolar modo la Puglia che avrà massime comprese tra 22 e 24 gradi mentre notate come al centro nord la colonina di Mercurio oscillerà tra 23 e 27 gradi poi all'inizio della nuova settimana ancora l'alta pressione dominerà gran parte dello stivale con cielo ancora in gran parte sereno e poco nuvoloso da nord a sud per maggiori informazioni consultate il nostro sito trebimeteo.com oppure vi ricordo di scaricare l'applicazione Trebimeteo sul vostro smartphone e tablet